Forkpai negli ultimi vent'anni, cioè dalla sua creazione, si è sempre di più affermato come uno dei migliori costruttori di batterie e volanti al mondo. Negli ultimi anni la sua crescita anche in Europa è stata esponenziale come presenza in mano ai più grossi musicisti e musicisti sia di sale registrazione che dal vivo. In particolare da noi è sempre stato uno strumento amatissimo, sono anni che Forkpai insieme a Dunnet fa parte di quella ristretta schiera di costruttori americani che viene da noi eseguita moltissimo. La cosa che ci piace è dire che Forkpai ad oggi è uno dei pochi strumenti che quando arriva in negozio ci emoziona sempre. Quando montiamo uno strumento della Forkpai, sia che sia un rullante o addirittura una batteria, le emozioni e le vibrazioni che ci arrivano sono veramente forti. Uno strumento che suona diversamente dagli altri, fuori dal coro se così possiamo dire, da questi strumenti che in generale oggi anche se di alto livello si assomigliano un po' a tutti. Ecco con Forkpai si riesce a riassaporare quel sapore, quella grana di sapore, di suono ormai dimenticato nella sonorità un po' appiattita che richiede il mercato. Una grande emozione per noi suonare ogni volta e provare gli strumenti Forkpai e soprattutto per voi, per quelli che già l'hanno potuta acquisire come strumento a casa, per voi che la avete a casa una grandissima emozione nel suonarla e nel possederla. Tutti strumenti unici, meravigliosi, tra cui questo che ora aspettiamo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!